Un saluto ai telespettatori di Pianeta Basket TV, ma naturalmente anche delle otto televisioni collegate su un digitale terrestre che ci permettono di arrivare in cinque o sei regioni del centro-sud Italia, di avere quindi un vasto pubblico che va al di là della parentesi online di Pianeta Basket TV. Un saluto da Paola Malfi, ventesimo appuntamento con Chiacchiere da Basket, il rotocalco settimana di informazione sportiva dedicato alla pallaganestro nazionale in generale, ma naturalmente a quella campana con l'analisi delle performance, speriamo sempre positive, delle squadre della nostra regione impegnate in Serie A e in Serie B e anche uno sguardo, come sempre, nella parte finale della nostra trasmissione, anche al campionato interregionale, l'ultimo di questa stagione, poi ci sarà la riforma, campionato di Serie C Gold, appunto Campano Calabro Lucano. Oh, nella prima parte della nostra trasmissione, grande, grandissima attenzione al campionato di Serie A e alle vicende della Gemini Napoli Basket e della Givo Vascafati. Andiamo quindi subito, prima a presentare il mio compagno di ventura e che c'è Andrea Esposito della redazione giornalistica di Pianeta Basket TV. Ciao Andrea. Ciao Paolo, ciao Riccardo e bentornati a tutti. Ricordo che nella nostra redazione c'è anche Luigi Cocco che è il nostro rappresentante lì a Scafati, con grande professionalità, come sempre, lo salutiamo. Però abbiamo naturalmente da salutare, da ringraziare per essere con noi in questo ventesimo appuntamento con Chiacchiere da Basket, il capitano della Givo Vascafati, la guardia Riccardo Rossato. Ciao Riccardo. Ciao Paolo, ciao Andrea e insomma ciao a tutto il pubblico di Pianeta Basket. Allora, andiamo subito ad analizzare quanto è successo in termini di numeri, di classifiche e quant'altro. Questa è la parte dedicata naturalmente ad Andrea Esposito, che invitiamo quindi a ragguagliarci su quanto è successo in termini di risultati, anche di classifica, in questo diciannovesimo turno della stagione regolare, il quarto del giorno d'andata, nel massimo campionato della Serie A, che ora va un po' in letargo e riprenderà il proprio cammino al cavallo tra il quattro e il cinque marzo. A te Andrea. Nell'unico anticipo del sabato, la Nutribullet Treviso riesce ad avere la meglio sulla Gemina Polibasket, ribaltando anche la differenza canistri, vincendo di tre punti, 85 a 82. Nella gara della domenica pomeriggio, il pomeriggio appunto della domenica si è aperto con la vittoria interna di Tortona su Trieste, 80 a 69. Il ritorno alla vittoria anche della Reier Venezia con l'esordio del nuovo coach, 93 a 77 ai danni di Pesaro. L'Oper John Metis Varese deve abdicare a Milano nel derby Lombardo, 75 a 87, così come purtroppo fa Scafati in casa tra le Muramiche ai danni per mano di Trento, 74 a 79, ne parleremo tra poco anche con Riccardo. Reggio Emilia non riesce a dare continuità dei risultati, perdendo in casa per mano della Virtus Bologna, 63 a 74, nettissima vittoria di Brindisi ai danni di Verona, 102 a 68 e blitz esterno di Sassari in quel di Brescia, 80 a 93. Pado la classifica si sta delineando in blocchi ben precisi, ne abbiamo già parlato nel corso delle ultime settimane, con la coppia di testa Milano e Bologna a 30 punti, tallonata da Tortona che non molla un centimetro a 28, poi un bel po' staccate troviamo Pesaro a 22 e poi un quartetto che chiude la zona playoff al momento. Sassari, Varese, Trento e Brindisi tutte a 20 punti, seguite dalla Reier Venezia al nono posto a questa 18. A 16 troviamo Trieste e Treviso, 14 per Brescia, Scafati e Napoli. Ad oggi il retrocesse sono Verona con 12 punti e Reggio Emilia a 10. Bene, allora, classifica quindi che sta incominciando a delinearsi con quattro blocchi, direi, le tre che vanno per la maggiore e che ormai occupano l'altissima classifica, poi un bel blocco per quanto riguarda la zona playoff e poi naturalmente le squadre tra la zona playoff e la zona retrocessione, quelle direttamente coinvolte nella bassa classifica. Riccardo, la tua analisi dopo 19 giornate di questo campionato? Sì, diciamo adesso forse il periodo un po' più difficile della nostra stagione, diciamo che l'inizio l'avevamo messo un po' in preventivo, che insomma dovevamo prendere fiducia con questa realtà che è la Serie A, quindi all'inizio eravamo un po' preparati anche a perdere alcune partite, visto anche le 3-4 squadre molto forti che abbiamo incontrato. Qua abbiamo avuto un periodo di grande crescita in cui penso che ci siamo arrivati a giocare per poco l'accesso alla Coppa Italia e poi quello che si vede comunque in questo campionato di Serie A è che appena molli un attimo e non fai punti per due o tre giornate ti ritrovi un po' più sotto, come se fai dei punti, basta vedere Brindisi, mi ricordo eravamo sopra a quei punti, adesso è schizzata veramente in alto, quindi non ci può rilassare un attimo in questo campionato. Senti, allora per quanto riguarda l'altissima classifica, Milano, Bologna e Tortona hanno sicuramente qualcosa in più, poi squadra sorpresa e squadra secondo te dalla quale ti aspettavi qualcosa in più, tenendo conto che ci sono stati parecchi cambi in panchina, in ultimo quello a Venezia con l'avvento di Spacia e qualche altro cambiamento in corsa, soprattutto nei rosseri come è capitato anche a voi che in un mese e mezzo avete cambiato cinque giocatori praticamente. Sì, guarda, secondo me le squadre sorpresa, insomma, a mio avviso sono due, che insomma non mi aspettavo di trovarle così in alto in classifica, sono Pesaro e Varese, mentre un po' quello che forse, insomma, mi ero sempre aspettato all'inizio dell'anno di trovare sempre sui primi tre posti è Venezia, però penso che comunque alla fine Venezia arriverà, insomma, nella parte alta della classifica, ecco. Allora, per quanto riguarda il mediato futuro ti faccio subito questa domanda, così poi passiamo al momento di Scafati. Questa Coppa Italia, in che parte mercoledì, come la vedi? Partite sempre secche e imprevedibili, no? Ci può uscire anche la sorpresa come è stato esempio tre anni fa con Torino, no? Faccio un esempio. Esatto, infatti penso che la Coppa Italia, insomma, testimonianza degli ultimi anni, l'ho sempre seguita e può succedere veramente di tutto, quindi anche fare un pronostico penso sia veramente difficilissimo. Assolutamente. Adesso passiamo al momento di Scafati, dai. Questa sconfitta, come ce la racconti? Io, devo dirti sinceramente, stavo seguendo la partita al display sul computer, ho visto un bel più undici, settantaquattro, sessantatré, ho detto, i ragazzi ce l'hanno fatta. Poi improvvisamente mi sono distratto per altre cose che avevo contemporaneamente da fare per il giornale e ho visto questo, questa debacle negli ultimi quattro e cinquantatré, questo sedici a zero che praticamente ha cambiato totalmente la partita e con Spagnolo e Grazuis Trento l'ha portata a casa. Che cosa è successo, Riccardo? Non lo so, diciamo che sono simili le ultime due sconfitte con Napoli e con Trento, penso che con Napoli i primi due quarti abbiamo imposto noi il ritmo, abbiamo giocato veramente bene, ci stava dando fiducia, stava pagando tutto il piano partita. Poi ci siamo un po', come posso dire, un po' sciolti, un po' disuniti, siamo riusciti a giocarcela fino alla fine e poi è mancato quel pizzico in più per chiudere la partita con Napoli. C'è stata grande fiducia durante la settimana da parte della società e di tutti i tifosi per vincere questa partita con Trento e infatti penso che si sia visto per tre quarti dove abbiamo condotto noi, scusami, facciamo 35 minuti, abbiamo condotto noi la partita e poi non lo so, sicuramente devo rivedere la partita per cercare di capire, ecco, è un lavoro che faremo tutti insieme sicuramente, però la sensazione è che gli ultimi quattro minuti sia come invertita la rotta, sia mancato qualcosa perché avevamo prodotto bene fino a là e poi se vuoi provare a salvarti, non puoi prendere un parziale di 16 a 0 in casa, ecco. Assolutamente. Allora Andri, a te. Beh, Paolo, diciamo che la partita, come l'ha raccontata Riccardo, è difficilmente obiettabile. Scafati soprattutto nel terzo periodo, dopo i primi due quarti, diciamo, partita un po' stonna chiusa, ritmi molto bassi, percentuali bassissime, le due squadre si vedevano che non è che stavano vivendo il momento migliore della loro stagione. Poi però, terzo quarto e inizio ultima frazione, Scafati oggettivamente aveva messo la freccia perché prima Stone, poi qualche canestro di Logan, Thompson che un'altra doppia-doppia e forse si sta sbloccando anche un po' dal punto di vista offensivo, sta iniziando a fatturare. secondo me poteva essere, diciamo, il viatico per una partita, non dico in carrozza, però almeno gestita in una maniera diversa, come Scafati ci aveva anche abituato, a cavallo fra il 2022 e il 2023. Forse un po' la forma fisica di alcuni giocatori non proprio eccelsi in questo momento, abbinata ad una comunque voglia di Trento di non lasciare nulla al caso, perché comunque le prestazioni di giocatori come Graziulis, 17 punti alla fine, tutte tra terzo e quarto quarto e la salita in cattedra di Spagnolo con qualche canestro importante, alla fine hanno fatto la differenza. La differenza è che si è giocata sui dettagli, oserei dire dettagli più mentali che tecnici, perché quando prendi un 16-0 di parziale la tecnica si accantuna e ci si concentra di più all'aspetto mentale. Sì, Riccardo, che ne pensi? Riccardo, poi ti volevo chiedere un'altra cosa, 15 palle perse, un dato importante che ti fa un po' riflettere sulla parte finale della partita, soprattutto. Sì, sì, fa veramente far abbrevidire questo dato, perché poi noi quando lavoriamo in settimana stiamo molto attenti anche sul fatto di concedere meno palle perse possibili, che sappiamo magari tante squadre, o anche Trento magari un po' meno rispetto ad altre, però da palle perse producono molto in campo aperto, in transizione, quindi è una cosa che noi anche ci lavoriamo e sentire questo numero fa male e dispiace. Comunque poi concordo al 100% con quello che dice Andrea, che 16-0 di parziale non è qualcosa di tecnico, quindi veramente non so neanche io darmi una spiegazione. Allora, cinque delle ultime sei partite andate male, cosa è successo da quel brillante cammino che vi aveva portato addirittura a vincere a Bologna, ad essere una squadra protagonista, una probabile formazione che poteva addirittura sperare nelle finalette di compitare? Cosa è successo in questo mese e mezzo quasi? Io ho sempre avuto la percezione, vivendola da dentro, ho sempre detto adesso, io ero sicuro che mai avrei pensato di arrivare a fare un cinque perse e una vinta nelle ultime sei, perché da come mi ricordo due mesi fa eravamo in gas, andava tutto bene, lavoravamo duro, c'è stata qualche piccola sfortuna sicuramente. Anche ieri, come già detto, Coy ha giocato con la febbre, Pinky ha avuto la febbre qualche giorno in settimana, Stone non stava bene, però sono tutte piccole cose a cui penso che bisogna andare oltre. Se l'obiettivo è salvarsi il prima possibile, non possiamo avere alibi. Senti, cosa dirai alla ripresa degli allenamenti ai compagni nello spogliatoio per cercare di tirar sul morale? Anche perché adesso ci sono partite importanti, Sassari, Treviso e Trieste alla ripresa, sono tre match sicuramente fondamentali per il vostro cammino, no? Sicuramente dobbiamo ripartire dal terzo quarto, l'inizio del quarto quarto che abbiamo giocato in casa e dobbiamo affrontare veramente queste undici partite come se fossero veramente delle partite da salvarsi o retrocedere, quindi col coltello dei denti e provare a vincerle tutte. Assolutamente. Adesso facciamo una piccola parentesi su Napoli, poi torniamo su Scafati con Riccardo e guardiamo anche un po' nello specifico il futuro, perché sia Napoli che Scafati alla ripresa, il prossimo 4-5 marzo, non si sanno ancora le date precise perché in questi 20 giorni praticamente la Lega avrà la possibilità di poter redigere il quadro completo degli orari anche di inizio delle singole partite, perché adesso c'è questa lunga sosta, in questa settimana ci sono queste interessantissime finalette di Coppa Italia che tornano a Torino in un palazzetto bellissimo con 14.000 posti a sedere, quello delle Olimpiadi, praticamente molto molto carino, molto molto bello, e poi c'è la parentesi di Pozzecco e la sua nazionale con l'Ucraina e la Spagna, già praticamente siamo qualificati, però basta vincere con l'Ucraina e ci siamo, insomma. Quindi Andrea, cosa possiamo dire invece su questo anticipo di Napoli? Non ha sconfitta in dieci partite esterne per la formazione partenopea, questo è un dato importante che fa molto riflettere, insomma Napoli non riesce fuori casa a ripetere le buone prestazioni casalinghe, si smarrisce spesso ed è capitato anche contro una Treviso incompleta, lo dobbiamo dire. A Treviso mancava il play titolare, il rugby, mancava il pivot titolare, Ellis, mancava il cambio dei lunghi che Simeone, cioè sinceramente io devo dirti onestamente quando ho visto il quadro completo dei due roster, ho detto dai Napoli ce la può fare, contro quasi mezzo a Treviso dobbiamo portare a casa un risultato importante. Poi la solita partita a strappi e che non riesci mai a portare dalla tua parte. Io ti dico sinceramente non assolvo nessuno, secondo me tutta la squadra non è assolutamente da ritenere la sufficienza. Forse è un po' la solita grinta, la solita volontà di Uglietti e Zerini, ma poi per il resto ho visto poco e perdonatemi. Sinceramente non è questo l'approccio per andare a giocare in trasferta. Scusatemi. Non è questo l'approccio per andare a giocare in trasferta contro una diretta concorrente avendo due punti di differenza e canistri da preservare, diretta concorrente che aveva due quinti di quintetto base assente e il primo camion dei lunghi indisponibile. Un assist del genere, Napoli non è riuscito a scartarlo per demeriti propri e per demeriti anche importanti. Il David Michinot, tanto incensato la settimana scorsa nella vittoria nel derby, giocatore decisivo in quella partita, ha Treviso sostanzialmente, non è mai sceso in campo, 0 su 7 da 2, nella sua caratteristica principale, attaccando il ferro, è tornato a casa con quattro stoppate subite. Napoli ha ritrovato, forse ha trovato meglio per la prima volta, un Young offensivamente presente, si è preso le sue responsabilità in attacco, i punti li ha messi, però poi nella finale di partita una gestione di palla da rivedere ha permesso poi a Treviso con Adrian Banks, giocatore di esperienze che questi finali in Italia le ha giocate a centinaia, a portare a casa due punti che per la salvezza sono importantissimi. Detto questo, Napoli ha gestito in maniera, oserei dire, frettolosa la situazione David Davis, praticamente scegliendo, imponendosi di andare a giocare a Treviso senza uno dei lunghi titolari, una rotazione che ha visto Zanotti partire in quintetto, secondo me poteva essere gestita meglio quella situazione, anche perché poi adesso con questo break c'era tutto il tempo per poter gestire la situazione con tutta la calma del mondo. Questa partita a Treviso è ormai stata, dobbiamo vare al passato perché è da consegnare ai posteri, una partita molto importante per la lotta salvezza, fermo restando che adesso Napoli deve cercare di fare gruppo, cercare di lavorare bene in queste tre settimane, cercare soprattutto di inserire un altro lungo, il quinto, la quinta alla grande di questa stagione nel roster per poter costruire un finale di stagione che speriamo tutti possa portare alla salvezza, ma sicuramente continuando così in trasferta è molto difficile. Sì, è vero, Napoli continua ad avere due facce, due volti in casa e in trasferta. Non riesco sinceramente a capire perché Howard, Stewart, Michonneau abbiano un aspetto e una faccia in casa e poi ne abbiano un'altra in trasferta. Anche i numeri e le cifre li penalizzano. La volontà di Uglietti e Zerini è incomiabile, incomiabile, Young anche, sì è vero, 21 punti, però leggo anche uno su cinque da tre, insomma. Ci sono troppi punti interrogativi spesso nelle partite esterne di Napoli che onestamente ne ha perse nove, sono tante. Il cammino, come dicevi tu, verso una tranquilla salvezza va anche per qualche vittoria esterna che deve essere assolutamente messa in cascina. Altrimenti poi ogni partita casalinga diventa pesante da dove gestire perché è un vero e proprio verdetto per il finale di stagione. E a proposito di questo volevo tornare da Riccardo. Riccardo, questa bassa classifica, come la vedi? Reggio Emilia e Verona hanno qualcosa in meno rispetto alle altre, ma poi grossomodo siete tutte lì. Contrevisto che ha fatto un bel passo in avanti. E Trieste, insomma, che si è messa un po' lì su, un po' tranquilla, no? Sì, no, io penso che sì, la classifica comunque è ancora cortissima. Penso che ci mancano ancora tanti scontri diretti, insomma, chiave salvezza. E insomma, penso che se facciamo un piccolo sblocco mentale, diciamo, una piccola svolta, possiamo veramente, secondo me, possiamo ancora dire la nostra e insomma fare anche un bel campionato, ecco. Assolutamente. Io, per esempio, ho visto il calendario di Reggio Emilia. Reggio Emilia affronterà sette delle sue rivali nelle prossime giornate. Quindi avrà praticamente il destino nelle sue mani. La stessa cosa a Verona. Per esempio, gli scontri Verona-Napoli, Reggio Emilia-Napoli saranno molto importanti. Per esempio, Napoli ha anche questo problema di avere due scontri diretti fuori casa e di non avere né con Scafati e né con Treviso la differenza canistri a suo favore. Quindi il cammino di Napoli deve essere, secondo me, in questo momento ben determinato e non bisogna sbagliare assolutamente. Perché poi i prossimi... alla ripresa del campionato, per Napoli c'è Varese, poi c'è la trasferta di Reggio Emilia, poi c'è Brindisi e poi c'è Trento. Per Scafati ci sono Sassari, Treviso e Trieste. Come vedi, Riccardo, questa ripresa è cambiata. Mi pare impegnativa, no, per entrambe? Molto impegnativa, sì. Poi, mi sembra, noi giochiamo subito il 5 marzo con Milano. E poi abbiamo... Esatto, esatto. Quindi sarà veramente tosta. Però, ti ripeto, non guarderemo più in faccia a nessuno e sappiamo che dobbiamo produrre più punti possibili, insomma, senza guardare in faccia a nessuno, ecco. Esatto, no, io avevo messo da parte la partita con Milano perché so che è difficilissimo essere lì, diciamo, anche perché Milano ha raddrizzato un po' la squadra con Napier e una signora squadra sotto tutti i punti di vista. Quindi, comunque, ricapitolando, insomma, sicuramente Napoli affronterà Varese, Reggio Emilia, Brindisi e Trieste, scappati avrà prima la trasferta di Milano, poi Sassari in casa, poi la trasferta di Treviso e Trieste nuovamente fra le Muramiche. Quindi, quattro partite importanti, no, Andrea? Assolutamente, sì. E poi, volevo anche parlare di questo con Riccardo. Forse questa pausa, dopo una partita con quel finale contro Trento, casca un po' anche nel momento giusto. Un break dove poter ricaricare le batterie, sia fisiche che mentali, per poi tornare a lavorare insieme, per poi costruire un finale di stagione più importante. Lo abbiamo detto prima per Napoli, dove c'è, diciamo, la grana di Wimbush da inserire, giocatore completamente nuovo. Voi, dal vostro punto di vista, forse dovete ricostruire quella chimica di squadra che nelle ultime settimane vi ha fatto un po' troppo spesso inciampare. Quella chimica di squadra che nel mese di dicembre vi ha fatto diventare forse la squadra più in forma del torneo. Assolutamente, infatti penso che come Napoli magari deve inserire questo nuovo giocatore. Noi alla fine, se non sbaglio, cinque giocatori nuovi da inizio della stagione, dobbiamo ancora trovare una vera e propria chimica. Insomma, penso che queste due settimane di pausa ci aiuteranno sicuramente a conoscerci meglio e a solidificarci come gruppo. Assolutamente. Adesso, quindi, obiettivi per Scafati, ritrovare il gruppo, ritrovare l'entusiasmo. Obiettivo per Napoli, inserire bene Wimbush e incominciare a vincere fuori casa, perché già il match con Varese è importante. Varese è una signora squadra, gioca veramente un bel basket e sarà difficile prevalere. Ma poi, ripeto, diventa la trasferta di Reggio Emilia e quella successiva di Trento fondamentali, credo, per il cammino di Napoli. Come, secondo la mia personale opinione, la partita casalinga con Sassari e quella con Trieste saranno fondamentali nel cammino di Scafati. Con la trasferta di Treviso. Lasciando perdere il discorso Milano, ripeto. Assolutamente. Assolutamente, sì. Va bene. Allora, Riccardo, noi ti lasciamo alla tua giornata di riposo. Quanto meno sei di nuovo a casa. Volevo da te semplicemente un parere sul momento del basket italiano. Giovani, vivai, Serie A, A2, questa riforma che nel campionato di Serie B era necessaria. Insomma, come vedi il momento del basket italiano da giocatore ormai navigato, insomma, che ha parecchi anni alle spalle di Serie A? Io penso che mi sembra anche abbastanza buona salute. Ecco, basta vedere la prova degli azzurri di quest'estate. Oppure guardo anche se è un campionato di Serie A molto, sì, con pochi, come posso dire, molto competitivo. Cioè, dalla terza all'ultima penso sia molto competitivo. Anche in A2, visto che adesso ci sono cinque o sei squadre per il girone che fanno veramente sul serio. Quindi penso che negli ultimi anni sia migliorato. Insomma, spero che incrementi sempre di più. Ci fai un pensierino ogni tanto alla nazionale? Dato che Pozzecco ha chiamato un bel po' di gente, insomma. Guarda, è difficile anche perché poi in questa situazione qua, sai, se fossimo, non lo so, prime posizioni, potrei anche sperarci. Ecco, però in questo momento qua, in cui sento che la squadra non sta andando bene, e che non riusciamo a giocare bene, non più viene proprio da pensarci, ecco. Va bene, dai, ti ringraziamo. Grazie quindi anche all'ufficio stampa, al caro amico Antonio Pollioso, grazie sempre a Scafati per l'ottima disponibilità. Ripeto, non andiamo con il prossimo turno perché è talmente tanto lontano, c'è questa Coppa Italia, quella è vicenda nazionale da vivere. Comunque, Napoli riprenderà in casa con Varese e invece Scafati sarà in quel di Milano. Grazie a Riccardo, grazie a Andrea per questa prima parte della nostra trasmissione. Oh, rimanete con noi perché c'è la seconda parte dedicata alla Biela Ciconto con un altro ospite. A tra poco, grazie, ciao. Grazie Andrea, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Seconda parte, amici telespettatori, del nostro ventesimo appuntamento con chiacchiere da basket, il rotocalco settimana di informazione sportiva dedicato alla pallacanestro nazionale in generale ma a quella campana in particolare. Abbiamo analizzato la situazione del campionato di Serie A, il momento di Napoli e Scafati nella prima parte della nostra trasmissione. Ora ci trasferiamo all'altro campionato che vede la partecipazione delle formazioni della nostra regione, il campionato di Serie B e in particolare il girone D. Anche qui, quarto turno del girone di ritorno. Andrea, andiamo subito con i numeri, i risultati di questo quattro turno che ha parzialmente soddisfatto gli sportivi campani e poi naturalmente la classifica. Dai. Sì, Paolo, un turno, diciamo, interlocutorio che ha dato un po' di risultati importanti come la sconfitta casalinga di Bisceglie per mano di Teramo, 67-78 il parziale finale, Luis Roma sbanca il Sala Consiglina 62-75, così come Salerno espugna Monopoli 60-81, uno squillo bello importante di Salerno dopo qualche settimana molto complicata. Ruvo di Puglia ha la meglio sulla Delfa e Savellino alla Pala del Mauro 53-69, così come Corato espugna Pescara agevolmente 54-75. Juve Caserta espugna anche essa Taranto 78-89 e poi nel derby campano la Partenope Sant'Antimo ha la meglio largamente su Pozzuli 73-106, unica vittoria casalinga del weekend è targata Roseto che ha la meglio sulla Virtus Cassino 75-64. Pado la classifica avanza a piccoli passi, i blocchi sono sempre più o meno confermati, con Ruvo di Puglia capolista 32 punti seguita dalla Luis Roma 30 e poi Roseto 28, una coppia 26 punti tutta campana formata da Juve Caserta e Sant'Antimo, poi Cassino 24 a 22 Bisceglie e Taranto nel secondo gruppo un po' più staccate abbiamo Avellino a 18 Teramo e Salerno a 16 Sala Consilina a 14 Corrato e Monopoli a 12 Pascara a 6 e Pozzuli a 0 Allora volendo fare il quadro della situazione per quanto riguarda le squadre campane ottimo quarto posto per Sant'Antimo e Caserta che combattono per arrivare nei playoff e quindi nella fase decisiva del campionato nono posto per Avellino undicesimo per Salerno che dopo quattro sconfitte consecutive è ritornato alla vittoria in modo brillante tra l'altro fuori casa su un campo non facile quello di Monopoli poi dodicesimo posto per il Sala Consilina ultimo posto ancora digiuno di vittorie per Pozzuoli Pozzuoli che ha perso nettamente con Sant'Antimo il derby del Palatrincone Sant'Antimo tra l'altro era anche priva di Sgobba e Mennella ha vinto con grande autorità con questi 35 punti e 13 rimbalzi di un Gloria veramente stratosferico il pivò Sant'Antimesi ha fatto pentole e coperchi in questa partita ottime le prove oltre al già citato Gloria anche naturalmente di Montanari con 19 punti per Sant'Antimo e del play maggio con 14 Pozzuoli saprete ha ridotto ulteriormente il proprio roster con la rinuncia a Siracov e a Tamani continua a schierare un roster giovanissimo Medovic giovane pivò puteolano prodotto tra l'altro del vivaio una buona performance con 22 punti e 6 su 10 al tiro sorprende ed è sicuramente il risultato della giornata il blitz importante la Juve Caserta tra l'altro priva ancora di Claudio Ondoja in quel di Taranto Taranto veniva da tre vittorie consecutive vincere a Taranto è stato molto importante con Lucas a 19 punti e direi anche un'ottima prova di tutta la spara con 5 uomini in doppia cifra davvero un'impresa importante per la Juve Caserta che come dicevamo si è rilanciata in classifica ed ora occupa la quarta posizione di concerto con Sant'Antimo in piena zona playoff saprete insomma le prime quattro posizioni sono utili per proseguire il cammino nei playoff dal quinto al dodicesimo posto poi ci saranno gli spareggi per rimanere nella futura B ed eccellenza come si chiamerà non sappiamo ancora dicevo dell'importante vittoria anche di Salerno dopo quattro sconfitte consecutive in attesa di rinforzi sul mercato dopo l'infortunio di Bottioni e la rinuncia di La Quintana la squadra di Ciccio Monticelli ha fatto veramente un'ottima partita in quel di Monopoli con Zucca a 23 punti e direi anche un ottimo Rinaldi con Moffa anche gli oltre la doppia cifra con 18 punti poi per il resto di Alfè Savellino non basta l'avvento del nuovo coach Crosariol il 38enne lo ricorderete ex pivot con trascorsi in Serie A e anche ad Avellino proprio dal giocatore nel 2009 non è bastato i suoi soldi in panchina perché si è perso ancora in quel di Avellino questa volta però con la capolista Rubo di Puglia con cui non è facile assolutamente giocare e l'Antonio 14 punti Sandri 12 peccato insomma per Avellino che attraversa ancora un momento di cambiamento di travaglio che speriamo possa essere risolto nelle prossime settimane poi Sala Consiglia cede a un'altra delle corazzate di questo campionato che è la Luis Roma che fa come un treno in corsa 62-75 nonostante ottime prove per Clacar e compagni e anche qui una buona prova corale di Sala Consiglia che non è bastata però e poi naturalmente il resto dei risultati però direi l'impresa del momento è quella da Juve Caserta che ha veramente fatto un grosso colpo in quel di Taranto e si è rilanciata in classifica adesso abbiamo l'intervista con Claudio Nogia che risponde ad alcune nostre domande l'ala della Juve Caserta ultimo innesto in casa Juve Caserta che risponderà ad alcune nostre domande poi ritorniamo in studio con il prossimo turno Andrea Sto bene fisicamente sto abbastanza bene diciamo ho recuperato pienamente dagli infortuni varie robe perciò abbastanza bene la settimana l'ho svolta con la squadra però so il mio ruolo è il motivo per cui sono qui perciò sono a disposizione nel caso in cui qualcuno non stia bene sono l'insurance guy che si usa in serie A in serie B questo è il mio ruolo la realtà la conosco molto bene faccio parte diciamo indirettamente di questa società da quando è nata per via di Nando devo ringraziarlo è il motivo principale per il quale sono qui grazie a lui mi trovo bene è un gruppo secondo me spumeggiante ha tanti caratteri tosti all'interno che sono riusciti a trovare il modo di giocare insieme e di vincere perché è quello che sta succedendo si stanno comportando bene secondo me fuori e dentro dal campo la città ne è consapevole gli obiettivi secondo me non devono cambiare fin quando si raggiungono nel senso che la vittoria di Taranto è stata eccezionale come è stata quella prima contro Roseto in casa perciò fin quando non raggiungiamo il nostro obiettivo secondo me non bisogna cambiarlo che è quello di mantenere la categoria se riusciremo e se saremo bravi ad entrare nelle prime quattro perciò a raggiungerlo il prima possibile secondo me allora lì potremo pensare a cosa può avvenire dopo fino ad allora secondo me bisogna essere concentrati perché si perde si perde veramente concentrazione se si pensa a troppe cose finché saremo bravi a tenere l'asticella lì dove l'abbiamo messa a inizio stagione e non alzarla secondo me la possiamo raggiungere il prima possibile fino ad allora non possiamo cambiare gli obiettivi in corso secondo me sarebbe sbagliato assolutamente così la classifica è molto corta ogni domenica ovviamente conta perché la vittoria o la sconfitta ti può far scendere o salire di varie posizioni in classifica e secondo me sarà così fino alla fine è il bello del campionato di quest'anno domenica ci aspetto una partita tosta come tutte le domeniche come vi ho detto prima contro Avellino che è una squadra che ha cambiato l'annatore in difficoltà al di sotto delle aspettative della stagione e dei loro obiettivi sicuramente perciò ci aspetto un'altra partita tosta come sono state le ultime due e ovviamente davanti al nostro pubblico vogliamo vogliamo e vorremmo fare il risultato per stare lì per i discorsi fatti anche prima per provare ad entrare nelle prime quattro come tutte le riforme all'inizio destabilizzano perché rendono più complicate le cose ovviamente per poi trovare giovamento nel futuro vedremo se sarà così anche con questa riforma non so dare una risposta sinceramente a questa domanda perché le riforme pagano dividendi sul lungo periodo e se il movimento ne trerà beneficio si vedrà secondo me nei prossimi anni sicuramente quest'anno è molto difficile raggiungere i propri obiettivi societari più del passato perché rende tutto più complicato le società tante società sono anche andate in difficoltà nei vari gironi per questo motivo però se è un sacrificio che si deve fare nel breve per trovare poi giovamento per il lungo periodo secondo me ben venga eccoci qui tornati dopo la nostra intervista esclusiva a Claudio Ondoia ventesimo turno del girone D di serie B che si giocherà il prossimo weekend a cavallo tra il 18 e il 19 di febbraio vedrà la Virtus Cassino ospitare Pescara Luis Roma Monopoli Ruboti Puglia Pozzuoli Deco Juve Caserta Delfe Savellino derby campano molto importante per i destini della medio alta classifica Sant'Antimo ospitare Bisceglie altra gara cruciale Corato Teramo Sala Consiglina Roseto e Virtus Arevi Salerno Taranto Paolo queste due partite il derby campano e Sant'Antimo Bisceglie molto importanti per le evoluzioni della classifica Sì sicuramente soprattutto Avellino penso si giochi molto della stagione in quel di Caserta Caserta che ripeto lo abbiamo detto anche in inizio di questo segmento dedicato al campionato di Serie B è quarta in classifica e sta facendo un ottimo campionato sarà un derby acceso Crosario avrà una settimana in più per poter plasmare al meglio la sua squadra vediamo cosa succede vedremo anche se ci sarà nuovamente in campo Claudio Ondocia per la Juve Caserta e poi l'altra partita fondamentale è quella casalinga anche di Sant'Antimo con Bisceglie che è una signora squadra anche se sta faticando nelle ultime partite contro Deep Deep tra l'altro un ex Bini Conti e compagni insomma sarà un match importante per Sant'Antimo per ritornare alla vittoria fra le Muramiche dopo la battuta d'arresto di 15 giorni ursono contro Taranto e poi direi Salerno ha l'occasione per continuare il suo momento positivo vedremo se ci sarà in settimana anche un innesto nella squadra di coach Ciccio Ponticello ha l'occasione per continuare un trend iniziare un trend positivo o meglio di vittorie continue ospitando Taranto che pur sempre è una squadra che dà molto fastidio con il trio di Argentini e poi con Conte Corral Bruno e Sena sono veramente un ostacolo non facile da superare Pozzoli va a giocare con la capolista Rumo sappiamo delle vicende di Pozzoli un'altra occasione per rodare questi giovanissimi allenati da coach Tagliaferri ma il risultato ci pare naturalmente abbastanza chiuso il pronostico per quanto riguarda questo match e poi Sala Consilina giocherà le sue carte contro un'altra quarazzata del campionato che è Roseto che con amoroso Santiangeli Tincic Mastroianni Di Emilio e compagni è veramente una delle migliori squadre insieme probabilmente con Rugo come organico e qualche altra campana di tutto questo girone sì assolutamente è una delle squadre più attrezzate più forti assolutamente però vediamo insomma cosa combinano le squadre campane io credo che anche da questo turno avremo delle positive sorprese dai roster della nostra regione andiamo con la C Gold concludiamo quindi questa parte dedicata al secondo segmento della nostra trasmissione come sempre B e C Gold andiamo con la C Gold perché Andrea mancano soltanto due giornate al termine dell'esaurimento della prima fase nel campionato di Serie C Gold Campano Calo Bruncano e c'è una classifica ancora molto interessante poi ci sarà la seconda parte con i due gironi dedicati logicamente il primo alla diretta promozione di tre formazioni pensate nel campionato di Serie B e poi il secondo invece che farà sì che la vincente di questo secondo raggruppamento possa partecipare ai playoff che poi determineranno una quarta promozione addirittura del prossimo campionato B inter regionale che nascerà nel mese di giugno a te sì Paolo quindi tante occasioni occasioni che si vedono anche in un livello medio dei campionati di Serie C un po' in tutta Italia che si è alzato e non poco il nono turno di ritorno ha visto la Mezzia avere la meglio sul Forio Dischi a 133-73 Salerno e Spugnare rende 80-84 Benevento avere la meglio sul One Team Caserta 91-85 largamente Mondragone alla meglio sui ragazzini del PSA Campus 84-54 e poi Angri e Spugnare Marigliano 69-77 la classifica come dicevi tu vede Salerno primeggiare a 30 punti tallonata dalla coppia Benevento Angri a 26 un po' più staccata Marigliano a pari punti con Mondragone a 22 e poi un'altra coppia quella potenza One Team Caserta via via poi apriamo abbiamo Rende a 14 PSA a 12 la Mezzi a 8 e Forio con le penalizzazioni Andiamo brevemente col prossimo turno che sarà tanto interessante ripeto in questi ultimi due turni si decide la griglia soprattutto del girone che conta per le tre promozioni successive quindi saranno due turni fino al 26 di febbraio molto molto interessanti quindi la classifica molto corta mette molta tensione sulle squadre che vogliono ambire a quei posti lì decimo turno di ritorno vede il Forio di Ischia a ospitare Marigliano Angri Rende PSA Basket Campus La Mezzia One Team Caserta Mondragone e Potenza Salerno bene allora con questa piccola pagina dedicata anche al campionato di Serie C secondo che ripeto vive quello campano calabro lucano momenti importanti in queste due prossime settimane concludiamo anche questo ventesimo appuntamento con chiacchiere da basket ricordiamo la nostra pagina facebook ricordiamo il nostro ottimo profilo instagram curato da Andrea ma anche dal nostro collaboratore Luigi Cocco insomma tutte le nostre varie iniziative il nostro canale youtube pianeta basket tv e anche naturalmente ringraziamo le otto televisioni che ci permettono di arrivare sul digitale terrestre in cinque o sei regioni del centro sud Italia come sempre diciamo come sempre ti dico anche Andrea buon basket a tutti e alla prossima ciao ciao